E' un'immersione sul relitto del radio sommergibile Veniero, un sommergibile della regia marina italiana, affondato nell'agosto del 1925 durante un'esercitazione nelle acque antistanti Capopassoli in Sicilia, con purtroppo a bordo i 48 membri dell'equipaggio. Non vedo l'ora di effettuare questa immersione con la signora Patrice Maiorca, la figlia di Enzo, e sono veramente orgoglioso di fare questo tipo di attività unica nel suo genere, nel genere delle immersioni profonde, che è una capacità che solo i palombari della Marina Militare Italiana sono in grado di esprimere. 3, 2, 1, inizio pressurizzazione. 3, 2, 1, inizio. 2, 1, inizio pressurizzazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.